Professor Giuseppe Sabino Cassese, giurista, già presidente della Corte Costituzionale, ministro, professore alla Normale di Pisa, da pochi giorni candidata al Quirinale, ma la cosa che ha colpito un po' tutti, forse candidato da Salvini, lei se lo aspettava? Intanto non è mica detto che fossi stato candidato da Salvini. Ma lei l'ha visto, è venuta a trovarla a casa, come dicevano. Io vorrei dire però che, vorrei dire una cosa un po' diversa da quella che state dicendo. Prego. E cioè, che noi siamo dei miracolati. Abbiamo uno dei migliori governi con una composizione molto forte di sessantenni e che è migliore di tanti governi italiani e molto migliore di tanti governi stranieri, pensate soltanto a Johnson. Abbiamo un capo del governo che è certamente il più fine politico che ci sia oggi, che che ne dicano quelli che pensano che il politico sia solamente la persona che è stato eletto, perché è una persona che ha avuto a che fare con i maggiori politici del mondo e si è fatto rispettare. Abbiamo un presidente della Repubblica che non aveva mai detto che lui non era disponibile, che aveva solamente detto che lui stava andando via, è una cosa che non si poteva negare perché finiva il suo mandato, quindi non aveva mai dichiarato qualcosa relativamente al futuro e che ha dato prova sia come presidente sia nelle altre cariche che ha svolto di una grande imparzialità e di rappresentare l'unità del Paese. Che volete di più? Allora io gli pongo un dubbio, professore. A me sembra che noi siamo dei miracolati. Però professore siamo dei miracolati, diciamo. Prendiamo il suo punto di vista. Ci ha detto bene il presidente per i prossimi sette anni è Sergio Mattarella. Ma se ci avesse detto male e ci toccasse un presidente che non va bene per quattordici anni, lei cosa direbbe? Guardi, i costituenti non vollero stabilire un limite e quando lo vollero fare lo scrissero. Per esempio i giudici della Corte Costituzionale non possono essere nominati. Primo. Secondo, in quasi tutti i Paesi del mondo i presidenti possono essere rinnovati. vi sono alcune costituzioni che prevedono addirittura ulteriori nuovi, purché non siano immediatamente successivi. Concordo, riconosco il fatto che nella maggior parte dei casi durano o quattro o cinque anni e non sette anni. Però non ci dimentichiamo che la durata sfalsata dei presidenti rispetto ai parlamenti è una cosa funzionale ad un'idea della democrazia temperata dal fatto che si sente il popolo in diversi momenti storici e in diverse composizioni. C'è Senaldi che vuole intervenire. Sì, ma prima parla Provenzano, però le faccio vedere una cosa. Enrico Letta qua da noi. Guardate cosa disse sulla presidenza.